Ecce Nomen Domini, troppo al Puernappos. Odive apparuiti in Israele, per parli al Virgine del Stato Sre, eia Virgo Deo Gelubi, con Divina Volubi Clemenzia. In Bethlehemnatus est, et in Jerusalepisus est, et in Omneterna, honorificatus est, rex Israele. O Cuenadus est, et in Omneterna, honorificatus est, rex Israele. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.